Bella a tutti ragazzi qui SafeGio ed eccomi arrivato col quinto triccio tutorial su Black Ops 2 e oggi come avrete visto già dal titolo vi insegnerò il Crossloads che il Crossloads è veramente un movimento della balestra molto figo che ora vi farò vedere ed è anche molto semplice diciamo abbastanza facile da fare anche online allora innanzitutto voi dovete avere una classe con la balestra ad esempio io la faccio così con la balestra e un mirino mi raccomando si può fare anche senza mirino però con un mirino sulla balestra è molto meglio io faccio DSR con due accessori in questo caso FMG i laser quelli sono quelli che preferisco poi leggero prestigiatura di destrezza zero letali e due scosse e poi beh ovviamente la balestra con l'acqua perché se no non farete il Crossloads allora voi con la balestra dovete avere la balestra in mano allora voi sparate un colpo tipo mezzo secondo dopo che sparate un colpo mirate guardate che la balestra che movimento fa sparo e miro guardate che fa tipo uno zoom sparo e miro guardate che fa questo zoom molto figo quindi ragazzi vi ripeto io ho giusto una chicca come lo faccio io io per farlo ancora più figo solo che hai pochi tentativi online lo faccio così prima di saltare qua miro annullo aspetta è difficile allora io prima come lo faccio io è così prima di saltare faccio il Crossloads così faccio il Crossloads poi lo annullo con la scossa salto e poi beh sparo quindi ragazzi ora dovrei succedermi perché non c'ho più munizioni vi rispiego com'è il Crossloads per l'ultima volta voi basta che sparate subito dopo mirate così sparo e miro vedete? sparo e miro sparo beh qua no che ricarica sparo e miro vedete che fa questo zoom più il mirino che avete è grosso più questo zoom sarà diciamo bello perché a noi piacciono molto le cose grosse quindi ragazzi spero che questo tutorial sia stato utile per voi mettete mi piace iscrivetevi e commentate il prossimo sarà il Bolt Stall che beh non vi anticipo niente a 40 like lo faccio uscire il Bolt Stall quindi da SafeJoy è tutto bella ciao